In questo video il mercato in esame è sempre l'euro-dollaro, ma rispetto alla scorsa puntata stiamo parlando di un long anziché uno short. Infatti ho cambiato idea rispetto al posizionamento precedente, ho chiuso un costo operativo e mi sono riposizionato al rialzo su questo mercato. Ben ritrovato in questo video, io sono Damiano Zitto, price action trader indipendente, questa che vedi è professione trader, la rubrica dove settimanalmente racconto il mio diario di trading con delle operazioni che svolgo su un conto reale da 10.000 euro che ho aperto come fase esperienziale del percorso di accademia che ho intrapreso in EAR Forex. Quello che vedi è effettivamente il grafico dell'euro su questo mercato, effettivamente ho adesso una posizione long, una posizione che si trova praticamente a break even in questo momento, quindi al mio prezzo di entrata che ho fatto ieri. Prendo il mio diario di trading, diario che, eccolo qui, mostra in questo trimestre la posizione che passa diciamo da short a essere adesso long, quindi una nuova posizione, chiudo la posizione precedente e mi riposiziono long. Andiamo a vedere quindi il dettaglio prima dello short, quindi uno short che avevo aperto il 30 aprile, una posizione sulla quale avevo investito sempre i miei 250 euro e che ho chiuso il 9 di maggio con un meno 107 euro e 75. Ho chiuso, andiamolo a vedere un po' sul diciamo diario delle decisioni, quindi l'8 maggio, quando praticamente il mercato più o meno alle 16 e 30 dopo aver fatto un minimo, non in mattinata ma poco dopo la chiusura delle 6 ore, quindi dopo le 13, il mercato durante la sessione americana ormai sembrava consolidare la giornata e quindi ho deciso di chiudere questo trade e effettivamente poi valutare un nuovo ingresso. ingresso che ho rivalutato e poi ho inserito il 13 maggio, quindi ieri, oggi è martedì mentre sto registrando questo video, quindi ieri mattina durante la sessione europea ho deciso di fare un ingresso at market su questo mercato a livello di 107.88. Adesso andiamo a vedere sul grafico quindi dove ho posizionato il mio massimo investimento, quindi il mio rischio, come e perché. Quindi non ci sono ulteriori dettagli su questo diario. Almeno al momento questa è l'operazione di trading e quindi l'andiamo ad osservare sul grafico. Allora, faccio un attimo un riepilogo sul posizionamento dello short e quindi per chi ha visto, se avete visto il video precedente, io ero posizionato short dopo questo movimento ribassista che si vede sul settimanale essere un, praticamente un movimento che andava un po' a, come dire, consacrare una close settimanale al di sotto del livello di base di questo range weekly molto molto ampio, mercato che avevo un po' osservato e sul quale attendevo praticamente una conferma short e me l'ha data praticamente il 26 aprile. La mia posizione quindi è stata momentaneamente in profitto, poi il mercato recupera e praticamente sono rimasto a mercato fino appunto, fino al 9 maggio, quindi nel momento in cui poi il mercato ha creato questo ritorno long ho deciso di chiudere. Questo perché quello che dicevo nel video la scorsa volta, dopo che si era creata questa outside bar, cioè questa candela molto ampia che conteneva all'interno praticamente le candele successive, gli scenari che avevo praticamente valutato, diciamo quelli possibili, e più diciamo più in linea con il mio piano erano due, quindi il primo prevedeva appunto la continuazione dopo questo, quindi con aumento di volatilità dopo 3, 4, 5 giorni, a ribasso e quindi convalida di quella che poteva essere la falsa rottura di questo massimo, quindi di questa zona, oppure quindi questo era scenario 1, convalida la falsa rottura, continuazione dello short, quindi sarei rimasto in posizione, l'altro scenario era proprio quello che si era verificato, quindi che si è verificato, quindi questo, quindi io avevo disegnato più una cosa del genere, comunque tenuta, una price action di tenuta di questa zona, di questo livello, molto chiara, in questo caso con una close molto forte, bullish, questo diventa poi in realtà anche un trigger operativo, perché è un FTV, è una sidebar di questa giornata, ma soprattutto fa falsa rottura, seppur di poco di questo minimo e quindi diventa un trigger interessante. Quindi riguardandolo, riguardando questo mercato, riguardandolo anche in ottica settimanale, potrebbe effettivamente andare adesso a recuperare completamente questo ribasso, questo forte ribasso avvenuto i primi di aprile, andare probabilmente a prendersi più o meno questa zona, 1, 08 e 76, più o meno, insomma, queste zone qui, anche se abbiamo più in alto questi livelli che potrebbero essere interessanti, possiamo andare anche a vederli un pochino più nel dettaglio nel weekly. Però prima di vedere un po' dove può arrivare il mercato, come mi sono posizionato? Allora, come dicevo ieri, ho fatto un ingresso al mercato, quindi giovedì si è venuto a creare questa price action, che quindi, mi ripeto, è stata praticamente una conferma di una costruzione dei minimi, quindi minimo, minimo, qui ha fatto, diciamo, un ulteriore minimo, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, e l'idea è che lui possa andare ancora più in alto. Da qui, quindi, l'idea di entrare al, praticamente, al prezzo di rottura di questo setup nella giornata di ieri. Venerdì aveva, praticamente, convalidato già questo setup, non ha fatto granché, quindi rimane una candela di ritracciamento dopo il breakout. Io entro e quindi, su questo livello, poi, mi vado a posizionare con uno stop che, in questo caso, ho messo sotto questo minimo di swing, quindi 1, 0, 6, 44 circa, lavorando sempre con un rischio, quindi in questa zona qui, che è di 250 euro. Molto bene. Ora, questo che vuol dire? Vuol dire che il mio rischio massimo, ecco, allora, il mercato dovesse crollare, no, fino a questo punto, anche in una giornata, il mio investimento verrebbe annullato su questo livello. Se, invece, il mercato, però, diciamo che andrei comunque a seguire la posizione day by day, come faccio solitamente, dovesse comunque andare a invalidare questo setup con forte vola, probabilmente un ritorno in volatilità ribassista, cioè già oggi, domani, molto forte sotto questo livello potrebbe farmi chiudere in anticipo, e quindi il mio costo sarebbe ancora inferiore rispetto ai 250 euro. Saremmo 100, 125, 110, insomma, comunque un costo inferiore. Ritengo comunque questo un bel setup, arriva sul livello, come dicevo prima, fa una falsa rottura lieve, ma molto interessante, e quindi una costruzione sul livello che può portare adesso a, in qualche modo, diciamo, che prima ha da superare sicuramente l'1,08, poi potrebbe, diciamo, come target avere questa zona o più in alto. Se vado a vedere un po' quella che è la situazione, quindi di livelli che in questa salita adesso potrebbe incontrare il mercato, sicuramente abbiamo questo livello di 1,08, sul quale praticamente è andato già ieri a sbattere il mercato, chiaramente rompere questo massimo sarà importante se c'è da fare il mercato, perché qui c'è stato, come dire, un punto importante da parte del mercato durante questo momento di volatilità, quindi è molto probabile che la rottura di questo massimo possa anche creare un'accelerazione, è probabile, insomma, non è certo, nulla è certo nel mercato, però, insomma, questo potrebbe essere un punto di possibile svolta. E accelerazione. Poi, per quanto riguarda, quindi, gli altri livelli, sicuramente un po' si vedeva anche dal settimanale, io ho tracciato questa zona su 1,087, quindi questa zona qui e poi abbiamo qualcosa un po' più in alto. Allora, io non ho posizionato un target in macchina, però questa sicuramente è una zona molto importante, una zona da monitorare, perché qui potrei prendere profitto. Potrei prendere profitto perché siamo in una fase, sicuramente, allora, guardiamo il settimanale, il settimanale, in questo momento ancora non ha formato un trigger vero e proprio, quindi è vero che siamo su un, come dire, questo stato rialzo, però adesso siamo praticamente in un ampio range, non c'è un trend in atto, non ci sono dei trigger operativi long che mi possono far pensare a un movimento più ampio, se dovesse avvenire, insomma, prenderò, diciamo, dei movimenti più, probabilmente a un prezzo più alto. Però, insomma, l'idea è che questa zona qui è una zona di target, al più la zona, la zona un po' più in alto, anche se dubito che ci possa arrivare facilmente in poco tempo, quindi meglio prendere profitto. Insomma, le fasi che sta vivendo il Forex in questo momento sono di trend che sono comunque anche ampi nel giornale aereo, ci sono queste gambe decisamente importanti, però, appunto, come vedevamo prima dal settimanale, non c'è un trend forte instaurato da cavalcare, sicuramente, quindi per prendere movimenti ancora più ampi. Quindi, diciamo che l'idea è quindi di mantenermi sui livelli, lavorare su questi livelli, eventualmente dovesse il mercato effettivamente andare a rompere il rialzo, valutare, valutare come arriva su questa zona, e poi, eventualmente, successivamente valutare nuovi ingressi, long o short, insomma, capire un po' quella che è la price action del momento. Questa, diciamo, questa è la condizione che sto, appunto, valutando, e sto valutando adesso su questo mercato. Dal punto di vista operativo, chiaramente, la scelta non è, come dire, dotata dal fatto che solo questo mercato è long, o in questo momento, diciamo, ha confermato una debolezza di loro, ma se andiamo a vedere un po' quello che ha fatto Sterlina Dollaro, Sterlina Dollaro, in maniera piuttosto simile, analoga, anche se è rimasta un po' più debole, comunque, dopo questa, altrettanto, diciamo, gamba di volatilità short, era andata al ribasso, aveva creato qui una, diciamo, una barra di volatilità che non era un trigger operativo, se vogliamo questa era una trappola, ma poi subito recuperata, e quindi c'è stato questo movimento, anche qui, uno, due, tre, pin bar qui, che arrivava comunque sul livello, poteva portare almeno un ritracciamento, e così è stato, quindi rompe questa zona, e qui fa un bel setup di falsa rottura, quindi questa tail bar, che rompe tutti i minimi precedenti, e adesso sta praticamente, si sta scontrando su questa zona, questa resistenza di breve, che se venisse rotta anche la Sterlina, potrebbe andare un po' più in alto, e quindi andare a prendersi livelli, io qui ho tracciato l'1,26,30, anche se sul settimanale andrebbe probabilmente sistemato un po' questo livello, perché già dove siamo adesso, è, come dire, questa è una zona, è la zona attuale, non la zona importante, poi l'1,26,30 è l'altro livello, che è stato, in qualche modo, il livello che più nel breve, meglio lo tacciamo sul daily, facciamo così, più nel, c'era stato un range molto più stretto, sempre su Sterlina Dollaro, eccolo qui, quindi livello che è stato poi adesso ritestato, appunto venerdì scorso, con questa candela di volatilità, questa pinbar, che potrebbe anche lei essere punto di possibili stop, che dovesse essere rotto al rialzo, potrebbe portare poi l'allungo verso livelli più alti, 1,27 in prima battuta, poi abbiamo 1,27 e 50, però c'è spazio dove se effettivamente il mercato tornare al rialzo, insomma, si potrà lavorare. Quindi il mercato che in questo momento sta fornendo queste informazioni, questo invece era l'australiano, insomma, guardando un po' questa, come dire, questa configurazione su questi tre mercati, che seguono molto molto da vicino, l'idea, insomma, l'idea del long è stata supportata, supportata in pieno, perché comunque avevamo, l'australiano che è arrivato su questo livello, seppur di offerta, ma con una certa dinamica, quindi anche qui, 9 maggio, comunque con forza, ieri ha creato questa indecisione, però, insomma, l'idea, l'idea che ha supportato un po' anche il mio trade, è stata anche la correlazione, quindi, di euro con sterlina dollaro e australiano dollaro. Quindi, diciamo, questa, questo adesso, questo è l'aggiornamento del diario, sono long sull'euro, dopo aver fatto questo short, e andiamo a vedere come, insomma, nel prossimo aggiornamento, come andrà anche questa operazione. Per quanto riguarda la precedente, dopo avevo tradato qui, insomma, la gestione comunque col paracadute, anche qui mi ero posizionato su 1,0920, mi ha permesso comunque di ragionare, si poteva comunque uscire volendo, anche in anticipo, posizionando, per esempio, il ragionamento, faccio adesso voce alta, ma in realtà preferisco quello che ho fatto adesso, vedendo alcuni trade passati, siamo sempre all'interno del rischio che gestisco, come lo voglio gestire, però, per esempio, 1,0920 era il mio stop iniziale, l'idea che, insomma, seguendo un po' quella che è da vicino, la dinamica di prezzo, qui si poteva effettivamente abbassare, è una domanda che mi faccio, si poteva abbassare lo stop paracadute, magari, più vicino, più vicino a questo massimo, nel momento in cui si crea questo, questo recupero con, con Inside, probabilmente sì, sicuramente però, questo aumenta la probabilità di uscire, con, con lo stop colpito, perché effettivamente il mercato, diciamo, ha più probabilità di raggiungere questo, questo stop, è altrettanto vero che se vai a rompere questo, questo massimo, è molto probabile ci sia accelerazione, c'è stata, va bene, però questo è un ragionamento che sto facendo, adesso a voce alta, sul mercato che si è mosso successivamente, però insomma sono, come dire, delle riflessioni che servono un po' a capire, a capire un po' quelle che potrebbero essere le strategie, poi di gestione della posizione, dal punto di vista, diciamo, di, appunto di gestione della posizione del rischio, comunque ritengo, che lo studio è stato fatto, diciamo, in maniera adeguata, nel senso che il posizionamento dello stop, a questo punto, sopra questo livello, comunque, mi ha permesso di valutare l'uscita, con, con più tranquillità, che è la cosa che valido di più rispetto, rispetto al, al costo, no? Quindi l'idea di mantenermi sempre con, con un rischio, che è il, il massimo, diciamo, il massimo investimento, poi poterlo gestire, quindi riducendo quel costo, o incrementando, quando invece, il, il mercato, effettivamente, va nel, nel piano, quindi, è, è la cosa, è la cosa che sto preferendo di più. Quindi, adesso, adesso che sono posizionato long, andrò, più o meno, a fare le stesse valutazioni, coloro, dovesse tornare al ribasso. Probabilmente, qui, diciamo, che, eh, lo stop, ehm, potevo anche metterlo un po' più in basso, c'era già stata questa mini falsa rottura, però, ehm, ritengo che posizionarmi su, sullo swing precedente, in questo momento, vista la, eh, la dinamica, come si è creata a sopra livello, mi piace, mi piace molto, questa sembra, effettivamente, tutta questa, sembra adesso una falsa rottura, e quindi potrebbe, eh, potrebbe dare, eh, i suoi, i suoi frutti, quindi, staremo, staremo a vedere. Bene, dopo questa digressione finale sul, sul mercato, questa riflessione così a voce alta, eh, io ti ringrazio, comunque per, vi ringrazio per aver visto questo, questo video fino, fino a questo punto, come al solito, vi ricordo di vedere, continuare a vedere i video di questa rubrica, se vi interessa capire un po' quali, quali sono le dinamiche che, eh, sto, eh, attraversando, valutando con la condivisione di, di questo diario di trading, e comunque quello di, diciamo, vi invito, diciamo, anche a guardare, dei video di approfondimento, che sono presenti su questo canale, molto, eh, diciamo, molto approfonditi, eh, molto anche tecnici, o anche riguardanti, diciamo, la, la mentalità, la, il mindset del, del trader, sono temi che, in Airforex, trattiamo molto, molto spesso, molto profonditamente, poi, insomma, fanno un po', la differenza, e quella che è la gestione di questo meraviglioso lavoro. Quindi, come al solito, io vi auguro buon trading, se vi è piaciuto questo video, lasciate un mi piace, e un commento al video. grazie, e buon trading. Ciao.